Sono stati presentati questa mattina in Piazza della Repubblica d'Urbino i monitor di infomobilità Adrebus. Dieci dispositivi acquistati, grazie anche ai finanziamenti della Regione Marche, che sono stati installati non solo nella città ducale, ma anche a Pesaro e a Fano. Grazie al cofinanziamento della Regione Marche, che economicamente ci ha intervenuto in modo sostanziale, e questi nuovi strumenti permettono di dare un miglior servizio all'utenza. Ne abbiamo installati, questo è uno, ne abbiamo già installati dieci nella nostra provincia, tra cui oltre questo altri al Parc Santo Lucia qui Urbino, altri a Pesaro e altri a Fano. E a differenza di prima che dovevamo appendere delle locandine di comunicazione, oggi dagli nostri uffici riusciamo a inviare telematicamente tutto ciò che accade nel nostro territorio. Quindi anche l'ambiente ne trae beneficio, perché meno movimento di mezzi e meno inquinamento. In più, molto utile anche a livello turistico, perché il turista che arriva, che ha bisogno di muoversi, c'è un video di lettura molto semplice dove attingere le notizie per cui può avere bisogno. Il percorso non finisce qui, perché ovviamente noi abbiamo poi app aziendali e presto si arriverà ad attivare la bigliettazione elettronica, che è un altro passo. Abbiamo già attivato il sistema degli AVM per il tracciamento dei veicoli e per dare all'utenza la possibilità di verificare l'arrivo dell'autobus, la puntualità e ogni altro tipo di informazione necessaria. Quindi c'è un percorso. Io qui rappresento la componente privata che appartiene alla società consortile Adribus, che sono le aziende della provincia di Pesaro che da sempre svolgono il servizio di trasporto pubblico locale. L'infomobilità, intesa come gli strumenti per facilitare l'accesso al servizio di trasporto pubblico, sono complementari e stanno incominciando ad avere la stessa importanza dell'autobus, bello, nuovo e pulito, perché sappiamo tutti che il viaggio inizia con una richiesta di informazioni. Questo è un posto dove ci sono molti giovani, che tra parenti ci sono anche i nostri maggiori clienti, quindi sono studenti universitari che raggiungono Rubino con il treno e poi magari l'autobus, pendolari dei studenti che si spostano all'interno della provincia. Ecco, questo è uno strumento che noi riteniamo moderno. Il direttore generale Adribus, Massimo Benedetti, ha poi fatto il punto sulla situazione dei trasporti al termine della prima settimana in cui le scuole superiori sono tornate ad accogliere un numero maggiore di studenti in presenza. Abbiamo iniziato la settimana, non abbiamo rilevato alcuna criticità. Naturalmente il primo giorno è servito solo per limare alcuni piccoli particolari, ma oggi siamo abbastanza tranquilli che il livello di studenti che oggi raggiungono le scuole in presenza sono perfettamente compatibili con il sistema di trasporto pubblico. Abbiamo aggiunto rispetto al periodo precedente, cioè fino al mese scorso, abbiamo aggiunto altri ulteriori sette autobus e quindi l'abbiamo messi là già dove immaginavamo che i numeri sarebbero stati magari più consistenti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti